Un angolo di paradiso da preservare e valorizzare. Volontari in azione questa mattina per la pulizia della spiaggia del Laghetto, un tratto del litorale di Torre del Greco. L'iniziativa come di consueto è promossa dall'Università Verde, da anni impegnata sul territorio, a tutela e salvaguardia dell'ambiente. È la giornata che abbiamo dedicato alla pulizia della spiaggia del Laghetto. L'Università Verde sono anni che ha adottato e quindi si dedica alla pulizia ogni due o tre mesi, ogni tre o quattro mesi, perché vedete bene cosa c'è. Non sono solo le persone, ma anche le mareggiate che portano tutta questa immondizia, plastica. Lo facciamo con passione e con dedizione. Perché questo angolo di Torre del Greco deve essere preservato? È perché è uno degli angoli più belli, un angolo storico. Se chiedete a qualunque torrese del Laghetto, tutti quando dicono «Ah, il Laghetto io da bambino ci venivo, mi portavano i miei genitori». E anche persone all'estero, che noi abbiamo la pagina del Laghetto, ci scrivono quando mettiamo le foto, dicevi da bambino, venivo là al Laghetto con mio padre, c'era la sorgente, c'era questo, c'era quell'altro. Comunque, è un posto da preservare. Ci siamo vestiti d'accordo col comune, che li verranno a ritirare al Cafè Street, che ci appoggia in questa operazione. Noi gli portiamo i sacchi di immondizia e poi là giù li vanno a ritirare, il comune di Torre del Greco. Grazie a tutti!